Ciao YouTube, ecco finalmente Argo all'arrivo a Cremona, lo vediamo passare sotto il ponte di Po ed eccolo che punta in direzione della Zattera, finalmente la sfida è completata, dopo i 640 chilometri di fiume, dopo la riparazione di ieri del motore Torchido siamo finalmente riusciti a riportare Argo a Cremona, vedete il capitano che si alza in piedi ed esce dalla cabina, lo salutiamo, ecco lo che sfila davanti alle Zattere, sta facendo segni di vittoria giustamente, da qui possiamo sentire... Sì? Ok, ecco adesso lo raggiungiamo alla Zattera e poi faremo le riprese da qui vicino. Grazie a tutti, ecco chi esulta, grazie a tutti per averci seguito su Twitter e anche sul mio canale YouTube, ringrazio la SVEA, l'associazione cui presidente è Mario Pedrini, ringrazio per avermi dato la possibilità di progettare l'elettronica e la meccanica di Argo, grazie a tutti, ciao ciao!